UFFICIALI PRONTI Bersagli nemici avvistati! Sovralimentazione attivata! Abbiamo colpito il nemico! Ci hanno colpito! Esatto, esatto! Sovralimentazione attivata! Siamo sotto attacco! Bersaglio colpito! Già hanno colpito! Ottimo lavoro! Abbiamo distrutto una nave nemica! Alla prossima! Alla prossima! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Sovralimentazione attivata! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito!